Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours, wherever you get your podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. Baby Gang, sempre lui, sempre lui sotto il mirino. E mai per la musica, sempre per fatti. Poi fai discorsi, no ma io con la musica mi sono fatto notare, no? Eh no, deve pure un attimo dimostrare. Ma non sono qui a criticare o a giudicare perché in verità è chiaro che il ragazzo ha dei seri disturbi psichiatrici e va aiutato. L'ultima è, insomma, stava con un amico, col motorino a Milano. Mi pare che a Milano non può starci per motivi di daspo e via dicendo. Li fermano i carabinieri al posto di blocco, li aggrediscono, scappa e via dicendo. Altre due denunce che si vanno a sommare alla lunga lista. Io dico ma questi soldi, questa fama, tutta sta roba che ti sei costruito, con la tua musica e alzo le mani. Quando e come te li godi? Da una galera? Da una piccola cella che conosci bene perché ci sei stato tante volte ma sempre per troppo poco tempo evidentemente. Perché il discorso è semplice, non ho parlato diciamo di quando lui ha fatto le foto in carcere perché onestamente le avrei fatte anch'io. Corona a suo tempo le fece, però uno ti vede pur la situazione. Ok, dici sono in carcere, faccio due foto, due video, metto nel video nuovo una questione di street credibility, un bell'immaginario, mi fanno apprezzano, va benissimo, tutto giusto. Però se tu magari hai una fedina penale non troppo esagerata, sei lì per sbaglio, perché poi il fatto della rapina ai ragazzi praticamente a quanto pare non erano stati loro, chissà come andranno i processi, però diceva sono qui per sbaglio diciamo, allora faccio il video, mi becco una multa e quei magari sei mesi in più di condanna, però il video lo faccio. Ci sta come ragionamento, non giudico quel gesto, anche se nelle sue condizioni non se lo poteva permettere, perché il problema dei ragazzi come Baby Gang, per questo decido di parlarne, non perché me ne frega di Baby Gang, perché voglio parlare proprio ai ragazzi che ascoltano, il problema vero quando è che una piccola pena alla volta, un piccolo definitivo alla volta, che se si vanno a unire, poi fanno un grande, fanno una grande pena. Questo stanno facendo i carabinieri, con personaggi come lui, ma con tanti giovani ragazzi in tutta Italia, perché non è l'unico caso, aspettano, aspettiamo che la pena si accumula, si accumula, quante denunce c'hai? Dieci? Facciamo i processi per tutto. Quando poi arriva, anche che tu ti prendi tre mesi a ogni processo, fai per dieci e iniziano ad essere tre, quattro anni. Quindi, insomma, il discorso è che non sono mai tre mesi di condanna. Se andiamo a fare i conti, ti arriva un definitivo di dieci anni, ti fai dieci anni. E non penso che è bello farsi dieci anni di galera. E non penso che ci sia nulla di pop, nulla di figo, nulla di interessante. Poi, perché poi che fai? Sì, stai lì e scrivi in attesa che quando esci poi puoi raccontarlo. Quando esci l'hype dura due video, ok? 6ix9ineDochet, un caso internazionale, 30 anni di galera, scontati, snitchato. L'hype è durato neanche il tempo che arrivasse poi il disco. Arriva il disco già finito. Fine dei giochi. Questo per dire, secondo me, la vera rivoluzione per Baby Gang e tutta la sua cricca non è fare i malandrini adesso, perché l'hanno fatto e si sono fatti vedere. Adesso però non rovinatevi la vita. Questo dico. Rondo da Sosa, tanto stupido, però Rondo da Sosa alla fine si fa arrestare a Londra per una cazzata, si fa vedere, ma non è che c'ha questo definitivo di 10 anni alle spalle. Rondo da Sosa fa il suo, c'ha il suo daspo, che gli dà anche la credibilità che vuole, però a fatti concreti va avanti, si gode i suoi soldi, si gode la sua vita, si pensa di essere il king del marketing, c'ha semplicemente una grossa fanbase. Va bene, va benissimo. Ma che c'ho da dire a Rondo da Sosa, a parte che fa una musica che onestamente proprio non capisco. Ma invece Baby Gang mi dispiace perché si sta rovinando la vita. E punto, si sta rovinando in pasto alla plebe che lo fomenta, che lo esalta, che lo vuole così e lui arriverà veramente a distruggersi. È ancora in tempo per salvarsi? Non lo so. Ma sicuramente è in tempo per cambiare e diciamo smettere di allungare quello che sarà un grosso definitivo su di sé. E così sarà, ragazzi. Perché la legge è lenta, ma arriva sempre. Ve lo dico veramente per esperienza. Quindi, diamoci una cazzo di regolata. Tra l'altro, a proposito, non c'entra niente, però Seven Zone, Zona 7, Zona Accia. Io sono stato alla Seven Zone perché ero a Milano a fare un lavoro, sempre di podcast, un bel progetto. Ho preso casa lì, casualmente, per quei giorni, una bellissima zona. Bellissima. Ho detto che vengo qua, mi ammazzano. Mi guardavo un po' intorno all'inizio. Bellissima zona. Tranquilla, riposata come, insomma, quasi tutte le zone di Milano che non sono proprio periferia, diciamo. Bellissima zona. Quindi, altro che Seven Zone. Come andasse Seven Zone, basta che esci, nessuno ti rompe il cazzo, alziamo la voce, ti pensi che sei tu il capo. Vabbè, questo per dire, non creiamo fuochi, capito, che di terre dei fuochi ce ne sono abbastanza, che poi ogni volta che sento sti ragazzi, le loro denunce, i loro fatti legati, diciamo, mai una volta che leggo rapina a mano armata con la mala del Brenta, erano collegati alla banda Lamagliana, oppure, diciamo, ammazzato, leggo sempre queste cazzate per la credibilità, per l'hype. Questi sono ragazzi con grossi problemi psichiatrici, hanno bisogno d'aiuto. Questo è il mio discorso. Lasciamo stare tutte le cazzate, perché poi uno si fossilizza sulle cazzate. Andiamo a vedere il discorso che questi sono giovanissimi, hanno un successo e dei soldi che non riescono neanche a tenere, che non gli fa più nulla perché loro non gli fa niente che una persona gli dica sì, gli dica no, se non la voglia di proseguire un cammino autodistruttivo. Io invito Baby Gang a fare un percorso in una comunità terapeutica, che non è necessariamente una comunità per tossicodipendenti, ma terapeutica di due barra tre anni almeno per tornare sulla realtà e magari iniziare a raccontare in musica qualcosa di veramente interessante. E lo auguro a tutti quanti che, insomma, si possa mettere, non dico la testa a posto, perché noi dobbiamo perdere la nostra personalità, però, no, iscrivetevi a un corso di teatro, fate spettacoli, cioè, fate i perso, vi create dei bellissimi spettacoli, fareste anche grande successo, riempireste i teatri, fareste una rivoluzione culturale, vi organizzate, tutti quanti, fate degli spettacoli di teatro, dei cortometraggi, potete fare anche un film con i soldi che ci avete e con la community che avete, in cui interpretate questa roba qui che tanto volete, la interpretate, vi passa e non, no? E poi è a posto. Ah già, hai già fatto i videoclip, sta roba, non vi basta, non vi basta mai, vi dovete rovinare la vita, e questa è la verità, mi dispiace per voi, io sono sempre dalla parte dei ragazzi, però, se due rondini non fanno primavera, qua è un'estate torrida, che più estate, è inverno, freddo, gelante, proprio, mamma mia. L'eleganza incontra la tecnologia, Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL, partono gli incentivi Lancia, gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione, e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla, anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro, e rata finale 12.058 euro, TanZero TAIG 381, offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 dicembre.